innamorarsi due volte come è brutto si succede ora mi devo dire una sola cosa ma io devo dire con i pene casatelle fatte a forme casatelle che ci hanno fatto pure il quattro pagò io devo dire solo dal leone Luigi Scotti voglio mi raccomando questo video facemmela diventa finale e condividetelo innamorarsi tu scuol di chi è voluto bene aire e ci mettiamo tutta la carne macinata io per questo ruoto da 28 ho messo 3 kg di carne macinata adesso ci vado a mettere il pane che ho messo in ammollo le uova, sale e pepe un po' di prezzemolo un po' di aglio tritato finemente una bella mattonata di parmigiano reggiano e un po' di pane grattugiato perché mi aiuta a tenerlo bello compatto quando viene bello così vedete non molliccio non troppo tosto ma proprio la via di mezzo adesso incominciamo a fare quello che dovremmo fare insomma per il casatello vero e proprio però stavolta utilizziamo la carne macinata prendete due fogli di carta d'alluminio li sovrapponete uno sopra l'altro lasciandolo insomma facendolo bello largo oleate un po' per non far attaccare la carne e ci mettete tutta la carne sopra adesso che dovete andare a fare la dovete stendere tutta fino a quando insomma non prende proprio la forma necessaria che poi dovete andare a finire dentro al ruotino quello lì del insomma del casatello un po' di carne macinata però rimanetevela da parte perché poi dopo dobbiamo fare pure le striscioline che vanno sulle uova pensatono poche che sfizioserie una volta che l'avete steso proprio per bene la carne io ci vado a mettere è nato poche pepe perché voglio vi ricordate come abbiamo fatto il casatello a Pasqua ora ci fa proprio identica e precisa insugno ora ci passano poche insugno la coppa tanto bello e consaporiamo proprio proprio come se stessimo facendo bene proprio il casatello e credo adesso ci mettiamo parmigiano che ho dimenticato è un misto di parmigiano e pecorino chiedo scusa e voglio ogni tanto capita fa brutti scherzi ma ci mettiamo questa misticanza di salumi salama napolitana pancetta provolone e auricchio e tutto tutto quello che c'è stiva a casa perché voglio l'amma fa proprio chine 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 pensate che su tre chili di carne macinata io ci ho messo un chile e mezzo di salumi no sì un chile e mezzo di salumi adesso ci mettiamo le uova sode un poco sfrantumate tra le mani tanto bello e un altro poco di uova sode però io mi metto così intere così come ho fatto con il casatello vero e proprio e se volete andare a vedere naturalmente vi invito ad andare a vedere sulla mia pagina facebook oppure sul mio canale youtube allora poi io adesso l'abbiamo messo in fila indiana queste belle uova se no casatello di polpa e tonno non piglie sapore e adesso con calma aiutandovi con le mani fate il primo rotolo naturalmente facendo il primo rotolo dovete poi togliere man mano la carta argentata fate il secondo rotolo e piano piano togliete anche l'altro pezzettino non vi preoccupate se poi incominciano ad uscire delle crepe perché tanto il polpettone è modellabile vedete adesso che facciamo togliamo la prima carta perché non ci serve più adesso piano piano cerchiamo di rappare tutti i buchi che si sono fatti non vi preoccupate non vi perdite l'anima voglio è capitato a me che sono uno chef di cucina può capitare a chiunque vedete che un po' così spacca e non c'è problema apparammo tutto cosa noi siamo napoletani ad uscire un polpettone a casa della ma proprio fenomenale vedete con le mani piano piano modellate e tutte le crepe si tolgono non vi perdite i coraggi non vi preoccupate guardate qua ora vi faccio aprire un momento ora prendete lo stampino quello la del casatello ci mettete un sogno anche per non vi attaccate non è bello e adesso voglio è meglio che lo fate in due perché adesso mi faccio aiutare la mia moglie l'ha già solo appogliato e non vi preoccupate se si spacca vedete allora adesso che cosa faccio adesso io l'ho messo con un po' di carta argentata che esce fuori vedete adesso io che vado a fare innanzitutto mi vado a chiudere tutte le crepe con un po' di insonio che mi passa in da mano e mi vado a togliere tutti i pezzettini restanti di carta argentata che a noi non ci serve perché noi non ce l'abbiamo a mangiare quando avete luato tutta la carta argentata passate un po' di insonio così in da mano e fate insomma in modo di dare proprio la forma del casatello non vi preoccupate le crepe ormai piano piano si stanno luando e adesso facciamo con le dita quattro buchi per mettere le uova dentro ma io ma sta venendo proprio veramente un dubbio ma chi se lo portò un casatello è proprio un casatello è una cosa proprio esagerata è sfizioso quella parte che vi è rimasta di canne che vi ho detto di mantenere a parte fate le striscioline e ce le mettete sopra le uova vedete tanto bello facite fin come se fosse un vero casatello ci vogliono poche pazienze vogliono ma proprio il risultato è quello che conta lo potete mangiare sia a caldo che freddo potete portare un coppa ci piace ora accendete il forno a 200 gradi nel frattempo che accendete il forno io ci passo un altro poco di sugno sopra e ci metto pure un poche parmigiana così ci facciamo fare la crosticina parmigiana e pecorino forno 200 gradi già preriscaldato 40 minuti subito lo mettete al centro forno statico sia sopra che sotto per insomma un'ora però i primi 40 minuti lo lasciate cuocere a 200 gradi e poi gli ultimi 20 minuti però lo lasciate cuocere a 180 e che risultato guardate qua guardate e papà fino a Romuno proprio ma sapete che mi fa? ora mi ha solo tagliato e purtroppo lo devo provare anche se sono in dieta e voglio ora che l'ho fatto pure raffreddato ma voglio tagliarlo tanto bello guardate qua guardate qua guardate qua quanta roba che ci sta andando ma non ci sono la dieta l'ho assaggiato forza per voi ma un pezzettino piccolino perchè questa è una bomba ma io pura fritta è la fine del mondo questo per un coppare ci piace un po' lo pacco non potete mangiare ma io ma io mamma mia mamma ha fino a Romuno ciao ciao